benvenuto su sifotovideo.it in questo video vedremo l'importanza di fare un video si sembra un po un gioco di parole lo so per raggiungere efficacemente i potenziali clienti e non al giorno d'oggi il sistema più veloce più immediato più efficace è fare un video perché ho detto potenziali e non potenziali perché ovviamente le persone che si avvicineranno a te attraverso il web attraverso i social attraverso youtube vimeo attraverso il tuo sito web guardando un tuo video se fatto in maniera ottimale potrebbero diventare i tuoi clienti e non perché magari quelle persone che guardano il tuo video sono già tuoi clienti ma guardandolo potrebbero interessarsi a un altro tipo di servizio che offri in quel determinato video per fare un video ad oggi i sistemi sono veramente molteplici e svariatissimi ce ne sono tanti ad esempio c'è un action cam come questa che impugno tra le mani che riprende me stesso mentre la telecamera riprende me che parlo uno smartphone al giorno d'oggi i smartphone fanno dei video veramente fantastici una fotocamera come quella che mi sta riprendendo o anche un computer o ovviamente dei professionisti che possono riprendere e montare e produrre il video per te sifodovideo.it segue una filosofia molto precisa per fare i video ci sono delle regole ben definite la prima regola è quella che per fare un video che propone la tua attività ci devi mettere la faccia quello che ti chiediamo è mettere la tua faccia quindi non avrai richieste strane come la di seguire un copione che abbiamo redatto noi per te assolutamente no ci sarà la tua faccia la tua personalità il tuo viso ci sarà il tuo viso la tua personalità ciò che fai ciò che sai fare e che ti va di proporre ai clienti perché ritieni che sia un valido strumento per risolvere i loro problemi altra regola che seguiamo in sifodovideo.it è quella che per raggiungere i potenziali clienti bisogna scegliere il canale giusto e per farlo bisogna scegliere a monte un video giusto se intendi raggiungere i tuoi potenziali clienti attraverso i social network ci vorranno delle connotazioni ben precise per il tuo video se invece intendi raggiungere i tuoi clienti attraverso il tuo sito web ci saranno altre specifiche per rendere il video il più performante possibile quindi le caratteristiche che noi amiamo vengano risaltate nei nostri video per i nostri clienti sono la naturalezza l'immediatezza e l'unicità che ogni singolo cliente ha rispetto alla concorrenza l'ultima regola che utilizziamo per creare dei video performanti è quella che non esiste un budget dipende sempre dallo scopo dall'esigenza che il cliente ha nel produrre quel determinato video specificità unicità scopo budget questi sono gli step per poter creare un video che è cucito perfettamente su ogni singolo cliente io ti ringrazio per aver visto questo video se hai piacere di condividerlo con chi potrebbe averne bisogno io te ne sono enormemente grato ti auguro buon proseguimento sul nostro canale ciao